sullo schermo che cosa erano quelle immagini? quella immagine era ecco come si vede lì nella TAC di fronte a me c'è una opacità quella è una TAC, quella che sta su una TAC toracica con la quale noi facciamo diagnosi però bisogna anche dire una cosa che spesso basta fare un rix torace per avere un'idea precisa di cosa c'è. Un rix torace da quasi sempre dei segnali che poi dobbiamo controllare noi stiamo ora recentemente e sono usciti dai lavori ma questo per una diagnosi precoce prevedono anche una TAC con meno raggi e senza mezzo di contrasti per esempio la TAC spirale che ci permette di fare diagnosi e di vedere quelle piccole lesioni questa è una grande questo è un tumore si vede bene un rix torace c'è questa opacità grande purtroppo una diagnosi del genere un'opacità del genere non ha non dà nessun dubbio ma il problema è anche che non dà nessun dubbio che si tratta di una lesione quasi sicuramente inoperabile e questo il problema. Il problema è la inoperabilità la inoperabilità ma non c'è chemioterapici o irradiazioni abbiamo una telefonata nel frattempo pronto? Pronto buonasera Volevo chiedere al professore fino a che età è possibile fare diagnosi di tumore polmonare anche oltre gli 80 anni? Ma il tumore polmonare esiste anche dopo gli 80 anni anzi con i problemi della senescenza si hanno modificazioni immunitarie che favorescono però dobbiamo dire e questa è una cosa importante anche per quello che è il nostro approccio clinico il nostro la nostra abitudine su queste forme che quelli che dopo hanno tumore polmonare dopo 80 anni che è possibile assolutamente possibile si ritrovano anzi si ritrovano in popolazione e una frequenza anche importante anche se spesso il tumore non ha poi non da tutti quei segni che si ha nel giovane perché per esempio la disprenia viene meglio sopportata i sintomi vengono meno sensibilità e la durata del tumore in queste forme in alcune situazioni è molto più tranquilla tanto è vero che noi dopo 85 86 anni facciamo poca diagnostica e non interveniamo assolutamente perché poi la prognosi è un pochettino migliore di quella che è presente nel 55 anni 60 anni si parla alle volte di nodulo polmonare è una situazione semplice da e questo è un problema è un problema che rischia di far andare che avere anche risvolto di tipo economico sui conti della sanità se noi andiamo a fare un attac anche senza mezzo di contrasto un attac si chiama attacca hr che si fa così semplice ha un dosaggio di raggi che solo 8 9 volte quella di fotografia del torace non richiede esami preventivi non richiede mezzo di contrasto e quindi controindicazione indicazioni noi andiamo a trovare per esempio per un dolore per una tosse che non passa per un ipotesi di polmonite per un emofto eccetera ma anche i soggetti semplicemente che sono fumatori beh purtroppo noi troviamo che nel 30 40 per cento dei casi e trovare questa che si chiama coin lesion cioè una lesione a moneta sia una cosa rotonda che sembra una moneta e che in genere ha un diametro che va dai cinque millimetri fino a un centimetro tre centimetri massimo vediamo sì ci dovrebbe essere una diapositiva che lo che me lo manifesti se ci passano queste diapositive allora questo allora che succede che purtroppo con l'ampliamento delle possibilità diagnostiche vengono dall'attacca e col fatto che oggi ed è questo non è un fatto negativo è un fatto positivo perché ci permetterebbe di verificare bene un po delle situazioni che con la rex torace non sempre noi riusciamo a decriptare bene bene il 50 40 50 per cento di quei soggetti che hanno questi noduli sono spesso ripeto soggetti asintomatici e già che se ne fa sempre di più rischiamo di considerare lesioni maligne quindi di mettere su tutta una serie di atteggiamenti diagnostici spesso volte anche la psicologia del malato a parte tutte le problematiche del malato perché per esempio noi consigliamo un soggetto che ha un nodulo che non ha caratteri ma in età questo è il radiologo ma ormai questa collaborazione micropiomologhe stiamo facendo appunto questo lavoro verificando questi noduli che caratteristiche hanno ma alla fine un nodulo di 5 millimetri di 6 millimetri 7 millimetri al 96 97 per cento non è un tumore però uno lo deve ripetere tra dopo tre mesi l'attacca torace che allora bisogna spiegarlo che non è perché sta crescendo il tumore ma solo per un controllo che quasi sicuramente il 98 per cento sarà benigno e quindi non crescerà però questo crea oltre la suspense sul malato per essere atteggiamenti psicologici e fatti negativi anche nell'ambiente familiare perché il destino con un tumore pulmonare non è brillantissimo anche se si tratta di lesioni iniziali però crea anche necessità di diagnostica e costi che possono anche essere molto più importanti della diagnosi di un tumore pulmonare perché spesso poi alla fine andando a studiare questi casi e visti che la percentuale di quelli che erano tumore molto bassa però questo fa parte del gioco e quindi le tecniche sono queste ed ecco perché si sta cercando oggi di utilizzare ed è quello che stiamo facendo in questo protocollo con 4-5 centri italiani non soltanto la sintomatologia clinica non soltanto la sintomatologia funzionale c'è una ma soprattutto la TAC spirale e la TAC HR che è un'altra cosa ma sono più o meno tutte e due servono a seguire il nodulo o quello che succede nel fumatore ma anche l'analisi di biomarkers nel sangue quindi ci sono tre o quattro biomarkers importante che stiamo studiando e che altri stanno studiando anche su derivazione genera di proteognomi con tecniche particolari molto sofisticate ma che devono diventare semplici perché se no se sono sofisticati in laboratorio sono sempre un problema di ricerca non hanno quella operatività che si richiede perché il numero di formatori è tanto che ci permettono di predire quali sono i soggetti almeno quali sono i soggetti a rischio quindi la diagnosi si fa attraverso questi esami ormai questo è il futuro il futuro è il futuro perché trovare un nodulo trovare un'opacità in una ecco lo dico per chi mi sta ascoltando in maniera che non si creano tensioni e momenti di panico inutili trovare in un soggetto che è asintomatico soprattutto se non è fumatore e soprattutto se è donna soprattutto se non asintomatologia da bpco una opacità pulmonare che viene identificato come nodulo pulmonare con diametri 5 6 mm è quasi sempre una lesione benigna e quindi il fatto di farla ripetere a tre mesi o a sei mesi dipende dall'entità adesso comunque si fa a tre mesi mesi dipende dall'esperienza di ognuno dei radiologi eccetera dal tipo di lesione non è assolutamente un fatto negativo e deve lasciar tranquilli perché se no tutte queste lesioni vengono considerate tumori allora cominciamo con le biopsie con la bancoscopia ma i chirurghi toracici ormai lo sanno bene e assumono un atteggiamento attendistico in un ospedale del veneto utilizzano stanno utilizzando due labrador che dovrebbero sentire il tumore sono labrador addestrati in germania il professor resta diversi anni fa ha fatto un lavoro di questo tipo e credo che fosse è stato l'inizio poi di quello che si è sviluppato nel mondo ricordi molto che cosa che cosa significa noi siamo e qui c'è una soddisfazione una soddisfazione non è personale del nostro gruppo parlo di foschino carpagnano siamo stati i primi grazie a un'esperienza che abbiamo cominciato col Brompton Hospital a Londra con i nostri allievi già nel 2000 noi studiavamo l'espirato condensato che cos'era era il respiro che condensavamo a meno 80 gradi e quindi diventava liquido e questo questo liquido noi facciamo l'analisi e abbiamo fatto e pubblicato dei lavori su questo abbiamo ottenuto qualche cosa proprio anche con con l'oncologico qui di Bari due importanti lavori proprio 2006 2007 sulla possibilità di verificare attraverso questa metodica non invasiva perché il problema è anche questo non invadere e non far male al malato questa è una cosa molto semplice con una tecnica abbastanza semplice che avevamo messo su insieme a Barnes che lavorava al Brompton Hospital e avevamo studiato una serie di malattie l'OSAT eccetera ma avevamo ottenuto però poca roba ma non perché la metodica non fosse giusta ma perché la metodica era molto variabile ora stiamo studiando grazie a quello che sarà fa poco il mio allievo abbiamo acquistato un ricercatore acquistato nel senso che siamo riusciti ad avere l'università che è una fortuna un ricercatore il professor Dragonieri che è un nostro allievo che ha studiato in Olanda e a Bruxelles prima in Olanda una nostra un'altra tecnica che già in uso in altre cose quello della della con gli elettrodi noi andiamo a verificare le modificazioni elettrodiche in relazione al al sapore e al profumo dell'espettorato e abbiamo pubblicato o puzza o puzza per noi che siamo abituati parliamo subito dopo la pubblicità aspettate con noi qualche momento